Ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale YouTube, quest'oggi vado a regalarvi quindi un metodo completamente regalo, un metodo spia per tutti voi che mi seguite sul mio canale YouTube, un metodo che è già stato regalato ai cari amici che mi seguono via WhatsApp, vi invito a contattarmi via WhatsApp perché chiaramente vi invio anche lì promozioni, metodi e quant'altro. La spia 19 a Bari vince il 90 a Palermo, un metodo che non necessita di alcun calcolo, quindi dovete solo copiare e giocare la previsione l'ambata e il 90 chiaramente e ci sono otto abbinamenti, unica ruota di gioco che sono sempre questi, il 19, il 68, 11, 13, 23, 17, 18, 48. Se andiamo a vedere la statistica, qui vi indica la data di uscita della spia, quindi il 22 giugno era uscita la spia 19 a Bari, si metteva in gioco la previsione, guardate che questa condizione spia ha dato due ambi, 90 a 48 e 90 a 68 al dodicesimo colpo. La statistica è molto buona, anche questa condizione del 2 luglio ha dato, che poi praticamente era successiva a questa, quindi ha dato le ambi casi, sempre 90 a 48, 90 a 68, questa del 18 luglio ha dato al primo colpo sempre 90 a 48, 90 a 68 e come vedete la statistica è ottima, molti ambisecchi vinti, ci sono anche dei negativi, ma non sono tanti, questa statistica porta a 20 casi esaminati con soltanto due negativi, quindi è molto buona, questa del 29 agosto, guardate ha dato l'undicesimo colpo 90 e 11 e poi al dodicesimo ha dato altri due ambi, questa del 3 settembre ha anche pagato, gennaio 2021, guardate ha dato al sesto colpo il doppio ambo 90 a 17, 90 a 18 e poi al tredicesimo colpo ha dato 90 a 68 e 90 a 13, quindi non vi fermate mai alla prima vincita ottenuta perché questo metodo molto spesso dà vincite multiple. Questi sono i due casi negativi, purtroppo succedono, però poi vedete che gli altri casi, per esempio il 31 luglio ha dato l'ambosecco 90 a 23 al sesto colpo a Palermo 14 agosto e il 5 agosto questa confermava la condizione precedente e come vedete l'11 settembre è uscita la condizione e al terzo colpo ha dato il 90 a Palermo e questo è ancora in gioco, ma siccome la spia poi è uscita di nuovo il 18 settembre quindi va a confermare anche la precedente condizione, quindi vuol dire che 90 si deve ripresentare a Palermo ed è molto probabile che si porterà dietro l'ambosecco, quindi attenzione a giocare questo grande 90 a Palermo, infatti su 20 casi esaminati sono state realizzate 21 ambate e la bellezza di 31 ambisecchi 20, quindi attenzione a questo 90 a Palermo, lo mettiamo anche in quarta e in quinta posizione determinata, un colpo è già andato, estrazione del 21, quindi a partire dall'estrazione del 23 di settembre rimangono ancora 12 colpi e giocheremo il 90 con questi abbinamenti, il 19 68 11 13 23 17 18 48, quindi andiamo a vedere cosa succede, io sono molto fiducioso che questo 90 a Palermo ci possa dare lambo, quindi mi raccomando a giocarlo perché ci sono due condizioni consecutive, questa dell'11 e questa del 18 che lo confermano alla grande. Per adesso un saluto a tutti, mister sbanconotto.